Ascolto Protetto si chiama per evitare sciocche nei minori vittime di violenza chiamate a raccontare degli abusi subiti. La coordinatrice del centro di cura del trauma interpersonale dell'ASL con gli investigatori della polizia ha raccolto la testimonianza della ragazzina della provincia di Bari adescata da un uomo dopo essere fuggita dalla comunità dove viveva e portata in campagna per essere abusata, stordita con bevande alcoliche e della droga. La storia su cui vige il massimo del riservo è avvenuta a febbraio resa nota solo dopo l'arresto di un quarantenne. La ragazza è stata ascoltata garantendo comunque la riservatezza intanto dei fatti e in più garantendo un ascolto che si ha condotto limitando tutti quelli che sono i fattori di stress che può vivere una vittima minorenne che deve raccontare delle esperienze così traumatiche e quindi ridurre i fattori di stress, saper porre le domande giuste, coadiuvando anche poi la polizia e le forze dell'ordine affinché si possa fare una ricostruzione dei fatti. L'uomo è in carcere a Trani, accusato di sequestro di persone e violenza sessuale ai danni di una minore avrebbe abusato dell'inferiorità fisica e psichica della ragazza ora al sicuro in una comunità protetta. Dai trial clinici, da quello che dice la letteratura, gli autori di reato, i presunti autori di reati anche meno gravi hanno le esperienze delle storie molto delicate, esperienze sfavorevoli infantili, possono essere a loro volta esser stati vittime di violenza, essere stati carenziati nelle cure, quindi sono sempre persone che hanno una storia. Grazie.